Salve i miei bonsai amici, oggi voglio mostrarvi l'oliva seconda che ho avuto nel mio giardino. Ho comprato questa planta qualche anno fa, attaccato dal movimento bellissimo del tronco e dal potenziale eccellente futuro. Vi ricordo che, non sopra il figlio di oliva che vi mostro in un video precedente, il figlio di oliva coltivato, anche chiamato olea europea, ha prodotti più lunghi e frutti più grandi che, dipendendo sulle specie, possono essere usati per la produzione dell'oliva o per essere mangiata. La planta è evergreen e, come pines, è molto delicata con riguardo al prunimento. L'obiettivo deve essere ottenuto quando lavorando sulle rute e sulle branche. In realtà, è necessario lasciare almeno uno o due pezzi di rute sulle branche, per evitare il branche di secco di secco. L'obiettivo ha alcuni branche che sono un po' troppo lunghi, quindi sarà necessario lavorare per portare la vegetazione nell'interno delle branche che necessitiamo. Questa procedura, che vi mostrerò quando provo a prunire il prunimento, consiste in mantenere alcuni pezzi nella parte della branche, per forzare la planta a fare nuove pezzi nella parte della parte della branche. Il stile che chiuscirò per la planta sarà quasi sicuramente il stile di operazione informale, dato che il tronco abbia già un movimento adeguato a questo stile. Questo anno una cosa curiosa è successo. Come potete vedere, un nuovo pezzi di oliva ha spinguto nel poto di allenamento che contiene la planta. A prima vista, la planta sembra come un pezzi di oliva, ma, per sicuro, dovrà aspettare fino a crescere. Il video finisce qui. Ascrivetevi al mio canale YouTube, share il mio canale con i tuoi amici e like il video per supportarmi. Grazie. Ciao, ciao! Ciao, ciao!